...sezione perché Lolo Ortega si fa insidiosa addirittura nei confronti di Alba! Sono amicinissimi! Contatto! È il contatto! No, no! Non chiudere gli occhi! Non chiudere gli occhi! No! Non chiudere gli occhi! No, no! Oh, buongiorno! Dai, poi! Dai, ma che vuoi? È passato un anno e la vita va avanti, capito? Perché non la smetti di consegnare le pizze? Tu puoi fare qualunque cosa! Ho fatto un casino! Che hai fatto? Ho iniziato a studiare da un annetto. Dove? A Milano, alla Naba. Ma dai, anche io ho fatto la Naba! E io non sapevo che tu cantassi! Diciamo che cantiamo un po' insieme! Pronta?